Noi siamo stati a Bucine, esce proprio quello che diceva lei adesso, il nostro Paolino, così veniva chiamato in paese. Paolino sì, allora noi devo dire che abbiamo scelto di vivere qui proprio perché c'era questa serenità, Paolo a Bucine è sempre stato, hanno sempre voluto molto bene, l'hanno sempre rispettato nella sua privacy, io anche in questa fase, in questo anno molto pesante, devo dire che tutte le persone probabilmente sapevano ma non mi hanno mai chiesto più di tanto, hanno sempre rispettato il mio dolore e soprattutto il dolore di Paolo e la sua situazione, quindi questo ringrazio anche Bucine, tutti i Bucinesi che veramente sono una famiglia per noi. Detto questo, penso che Paolo se lo meritava davvero perché Paolo è sempre stato una persona tra la gente, era uno come tutti, capite? Quindi questo era un messaggio molto bello che noi abbiamo anche, lui ha trasmesso alle figlie e io continuerò a farlo, ripeto. La semplicità, lui mi diceva sempre tu puoi aver fatto le cose più grandi ma devi sempre rimanere semplice, umile, rapportarti con tutti perché poi ecco ogni persona poi ha una ricchezza dentro, si porta in dono una ricchezza che possa essere appunto un sentimento, che possa essere una storia, tante storie nascoste, anche la nostra storia è stata in un certo senso, ce la siamo tenuta per noi, poi alla fine era così, io magari andavo in mezzo alle persone, le persone non sapevano nemmeno cosa stessi provando io in quel momento, eppure era così, quindi questo è un insegnamento. Dietro ogni persona può nascondersi di tutto, anche le sofferenze, per cui Paolo, questo era l'insegnamento di Paolo. Questa partita non l'ha vinta, però quello che lascia è un'eredità importantissima. Questa partita non l'ha vinta, noi ci abbiamo sperato fino alla fine, c'erano tutti i presupposti per poter vincere questa partita, tutti, purtroppo alla fine qualcosa è andato storto e non l'abbiamo più recuperata. Sì, non l'abbiamo vinta, diciamo, non sempre si vince, io purtroppo, ripeto, avrei preferito anche perché perdo non solo il grande amore della mia vita, perdo il padre delle mie figlie, perdo un uomo eccezionale e, come dico sempre, dopo Paolo Rossi si sopravvive, io sopravviverò e andrò avanti per le nostre figlie e le farò crescere come avrebbe voluto lui. I progetti però li porterà avanti, quelli che ha iniziato proprio con lui? Tutti i progetti, che c'è uno dei più belli, forse questo museo che sarà fatto probabilmente a breve, insomma, inizieremo questo percorso. Paolo questo lo sapeva, l'avevo condiviso nei giorni scorsi con lui e poi, vabbè, questo film sulla sua vita, la sua fondazione, tutti i progetti che lui voleva portare avanti anche per far giocare con la sua accademia di calcio, per far giocare a calcio anche chi non se lo può permettere, quindi, insomma, tanti progetti che io porterò avanti, insomma, per lui, in suo nome. Senta, molti ce lo chiedono, molti anche proprio bucinesi, di come poter fare a dargli l'estremo saluto. Sappiamo tutti che siamo ovviamente in un momento di pandemia, poi la vostra riservatezza, ecco, se ce lo può dire, se le va, in quale forma gli darete, insomma, l'estremo saluto? Allora, lui adesso è lì alla cappellina a Siena, alle scotte di Siena, dove rimarrà fino domani. Poi abbiamo fatto una scelta, diciamo, insomma, andrà a Vicenza, ma perché, non perché Bucine è la sua casa, però Vicenza è proprio la sua città e quello che riescono, il calore dei vicentini che io ho sempre visto e l'amore per Paolo è una cosa talmente grande che io ho scelto Vicenza, ma, ripeto, non per mancanza di rispetto dei bucinesi che adoro, che amo e che ringrazierò tutta la vita per quello che hanno dato a Paolo. Però, ecco, andremo a Vicenza e quindi poi magari comunicheremo tutti gli orari delle... Adesso c'è oggi una riunione in prefettura alle 15 e poi ci comunicheranno, insomma, tutti, sì, le modalità.